Buona Sport, siamo con Alessio Garbarino del Ligorna. Allora Alessio, oggi diciamo un punto che alla fine va bene. Sì, un punto che fa classifica, siamo un po' dispiaciuti per non aver portato a casa i tre punti, ma comunque dai, un pareggio che fa classifica, non abbiamo preso gol e adesso testa mercoledì con la Castanese. Direi oggi il Pinerolo si è chiuso in difesa, dal primo non ti dica l'ultimo minuto perché qualche occasione l'ha avuta, ma non clamorosa, come voi che ne avete avuto due e che purtroppo la palla non è tratta. Sì, purtroppo oggi la palla non voleva entrare, loro si sono messi lì, si difendevano bene, strutturati fisicamente, noi abbiamo fatto un po' di fatica a fare gol. Adesso la testa alla prossima partita di mercoledì. Sì, subito mercoledì con la Castanese, meno male giochiamo subito così proviamo a portare a casa i tre punti e chiudere bene l'anno. Vabbè, ad ogni modo la posizione di classifica è sempre ottima, anche se il Vado ho già vinto. Dai, in bocca al lupo per le prossime. Crepi, grazie, buona serata. Ciao, grazie, buona serata.